14 campioni di tè hanno fatto riscontrare per 11 di essi presenza di glifosato, il controverso erbicida che molti vorrebbero fuori dal mercato. Lo ha segnalato la rivista dei consumatori di Salvagente. Le concentrazioni riscontrate sono tutte al di sotto del limite di legge, 2 mg per chilo, anche se in alcuni casi i valori si avvicinano alla metà della dose massima consentita. Il valore più elevato di glifosato è stato trovato nel Taylor English Breakfast, a seguire nel TES Lunga, quindi in quello PAM. SOS Balene in Islanda. La possibilità di vietare la caccia a scopo commerciale a partire dal 2024 è un'ipotesi da mese in discussione. Il governo ha dato da allora segnali contraddittori. Ad agosto la ministra Svavas Dottir aveva detto al quotidiano inglese Guardian che non è stata presa una decisione e aveva lasciato intendere di puntare più che all'abolizione ad implementare requisiti rigorosi per la caccia. Un'autentica minaccia per la sopravvivenza e il progressivo scioglimento del ghiacciaio sul monte Everest che sta avvenendo più velocemente del previsto, provocando la continua diminuzione di scorte d'acqua. Un rischio, questo, che sino a vent'anni fa non esisteva. Ad accorgersi di quanto sta accadendo sono stati i medici delle cascate di ghiaccio, un team composto da Sherpa e alpinisti nepalesi esperti. Proprio gli alpinisti nepalesi sono stati costretti ad attraversare uno stagno ricoperto soltanto da una semplice patina di ghiaccio, ha spiegato Sonam Sharing, responsabile della manutenzione del percorso. Il ghiacciaio, ha detto, sta diventando un lago, un pericolo ma anche un problema di approvisionamento d'acqua potabile. Sempre più vicino al mondo dei giovani è la formazione. Conai, in occasione di Accomundo 2023, ha premiato i vincitori della prima edizione del bando Conai per tesi di laurea 2022-2023, promosso insieme ad Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Alla base del premio, la volontà di entrambi i soggetti di promuovere lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie e metodologie per l'uso e la gestione efficiente delle risorse, il rafforzamento dell'utilizzo di tecnologie per il riutilizzo, riciclo e recupero e la valorizzazione dei rifiuti di imballaggio e l'eco-innovazione di prodotto. Emozionati ed orgogliosi, i due vincitori. Per me ha avuto una grande importanza perché credo che la comunicazione abbia un ruolo fondamentale dal punto di vista della sostenibilità perché chiaramente nella ricerca ho avuto modo di approfondire tante tematiche ma se queste tematiche non hanno modo di essere diffuso l'impatto che la mia ricerca può avere sicuramente è molto più limitato. È stato un premio che mi ha dato molta soddisfazione perché è stata valutata positivamente il mio lavoro di ricerca e di sperimentazione nel campo della sostenibilità, in particolar modo per quelle che sono le smart label, le etichette digitali. Il bando per le tesi di laurea, un nuovo strumento che avvicina Conai al mondo dei giovani e all'economia circolare. Per il Conai è un premio importante, è la prima volta che facciamo questa edizione, questo bando per tesi di laurea magistrale sull'economia circolare. Abbiamo avuto un ottimo riscontro perché sono arrivate 79 tesi da tutta Italia, quindi da nord a sud, e lavori belli, qualitativamente validi. È stata dura scegliere i vincitori, abbiamo trovato due tesi bellissime che siamo contenti di presentare oggi, due ragazzi che lavorano sulle tematiche anche del packaging, quindi da una parte la sistematizzazione di tutti i materiali sostenibili che possono essere utilizzati dagli eco designer, dall'altra una tesi sulle smart label, quindi sulle etichette intelligenti anche sostenibili, applicabili sul packaging, utilizzabili nel packaging, e quindi siamo orgogliosi anche di dare contenti, di soddisfatti, di dare visibilità a questi lavori meritevoli. Grazie a tutti.